Da gioiello abbandonato a realtà di nuovo fruibile. A distanza di anni Rocca Costanza lavora per tornare ad essere un luogo frequentato dai pesaresi e dai visitatori non soltanto per l'unatantum determinata dal palio dei Braceri. Segnali positivi sono arrivati oggi dall'incontro avuto in comune fra il sindaco Biancani e gli assessori Pozzi e Vimini con Cristian Torretta, direttore regionale Marche del De Magno. Incontro al quale è seguito l'invio della lettera ufficiale all'ente e alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche per rendere fruibile ai visitatori il chiostro e il fossato di Rocca Costanza già da quest'estate. Una richiesta che il comune ha posto impegnandosi con i lavori di sistemazione dell'area interessata con interventi quali sfalcio e sistemazione del verde così come della messa in sicurezza per garantire l'ingresso libro al fossato e quello regolamentato del chiostro che potrà accogliere i partecipanti delle visite turistiche ed iniziative culturali come presentazioni di libri e mostre con numero limitato di presenze. Il De Magno tramite il direttore Torretta si è reso disponibile all'apertura augurandosi che la soprintendenza faccia altrettanto. De Magno che intanto sta già incaricando l'impresa che partirà con i lavori a metà settembre per recuperare i servizi igienici e cinque spazi che affacciano sul chiostro per destinarli a sale espositive. Si tratta di un intervento da 200.000 euro che consenterà dalla prossima primavera di riorganizzare l'uso, aumentare le potenzialità e aprire la rocca con nuovi spazi in attesa del progetto più ampio da 7 milioni di euro che il De Magno sta portando avanti e che darà nuovo futuro alla fortezza rendendo la sede dell'archivio di Stato e del Museo Dario Faux e Franca Rame.